Sindaco, la conferma del G7 che si terrà a Pescara? Quando? Sì, la Farnesina ieri con un comunicato ha confermato tra le città che ospiteranno il G7 Pescara e questa è una notizia che ci fa veramente molto piacere perché avremo modo di mostrare le bellezze della nostra città e soprattutto Pescara entrerà nel gota delle città più importanti che sono in grado di organizzare iniziative di livello mondiale perché a Pescara verranno i ministri degli esteri dello sviluppo dei sette paesi più industrializzati del mondo la manifestazione si svolgerà a autunno inoltrato, la data non è ancora stata fissata però penso fra ottobre e novembre sarà credo l'ultima data del G7 che è a guida italiana quindi è ancora più importante questa cosa devo dire che sono pieno di orgoglio per questo